Se va a parlare un'altra volta con lo sceriffo, o se alle quattro non la trovo in casa, darò fuoco alla sua vita con tutti quelli che ci sono dentro come a un canneto sotto un vento forte. Quando le avrò mostrato la rivista, col mio nome nell'indice, con dentro il mio racconto, lei che farà? Andrò a costituirmi, ma mi leverò di mezzo prima del processo, signor Rainey, perché se le cose stanno come dice lei, vorrebbe dire che sono pazzo. E un pazzo di questo calibro non ha motivo né ragione di restare in vita. Lei è il mio caffè.